Aspettare per rivedere se ci fosse il vantaggio e poi affischiarlo. Una bella punizione, ma certo l'affeggiamento difensivo è da cancellare. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della ripesa. Calcio di punizione da manuale, una traiettoria da pista, il portiere è rimasto fermo a guardare. È di fronte a una protezza così, bisogna soltanto applaudire. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione.